Salve a tutti. È arrivata la tanto attesa decisione della Corte di Giustizia sul riconoscimento del diritto del personale precario all'attribuzione della carta docente introdotta nel 2015 della legge sulla buona scuola. Dopo l'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia da parte del Tribunale di Vercelli su un contenzioso caparbiamente eseguito dall'Avvocato Giovanni Rinaldi che ha portato fino in fondo questa battaglia e ha fatto pronunciare favorevolmente i precari la Corte di Giustizia. Si aspettava appunto questa decisione perché sono tantissimi, sono migliaia i precari che premono per ottenere il riconoscimento di questo beneficio. Ebbene la Corte di Giustizia ha ritenuto che la legge su una buona scuola si pone in contrasto con la normativa comunitaria sui contratti a tempo determinato perché esclude di fatto il personale precario dall'attribuzione di questo beneficio. Sicuramente questa pronuncia della Corte di Giustizia aprirà il taglio a un grosso contenzioso che metterà alle corde il Ministero dell'Istruzione salvo che non venga presa qualche decisione dal punto di vista politico per riconoscere questo beneficio a tutto il personale precario. Al momento l'unica cosa certa è che sono migliaia i ricorsi pronti per essere depositati e vedremo come si orienterà la giurisprudenza italiana a fronte di questa netta presa di posizione del giudice comunitario. Vedremo gli sviluppi della vicenda. A presto.